Eccoti qui, Gloria dell'Alleanza. Come procede la battaglia lungo la costa? Questi Pandaren si interrogano su tutto. È una cosa che fa riflettere. La battaglia per Pandaria sta infuriando. Questi Pandaren si interrogano su tutto. È una cosa che fa riflettere. Questa guerra può dilagnare Azeroth. Questi Pandaren. Questi Pandaren. Questi Pandaren. Questi Pandaren. Questi Pandaren. Questi Pandaren. L'hai ucciso. Elsa Rossa ha servito Lorda nelle savane meridionali. Oggi hai vendicato molte vite, campione. Questi Pandaren si interrogano su tutto. È una cosa che fa riflettere. Questa guerra può dilagnare Azeroth. Può una guerra essere giusta? Questi Pandaren si interrogano su tutto. È una cosa che fa riflettere. La battaglia per Pandaria sta infuriando. Hai dato prova di essere un esempio d'eroismo. Un campione della tua causa. Ricordi la nostra ultima conversazione? Discutemmo dei meriti del tuo grande re. L'ho osservato da vicino. È vero. Allo spirito del lupo. E combatte come un lupo. Avendolo visto in azione, ora capisco cosa significhi. I lupi agiscono in branco. E il tuo re ha richiamato il suo. Radunando un'alleanza nel vero senso della parola. Il suo viaggio è lungo. Ha compiuto solo i primi passi. Ma con eroi del tuo calibro nel suo branco, l'alleanza può realizzare qualunque cosa. Tong, porta le mie cose. La tua dedizione alla causa merita un riconoscimento. Come te, anch'io qui a Pandaria continuo ad affinare le mie capacità. Spero che apprezzerai i risultati. Scegli la tua ricompensa. Resta vigile. Il ritorno del re del tuono è un pericolo. Ma anche un'opportunità. a Grazie a tutti.